Mi sono fatto l'idea che è un campionato tostissimo, campionato di assoluto livello, ci sono giocatori fortissimi, quindi sta a noi lavorare per pareggiare, per competere con queste grandi squadre, con questi grandi giocatori, è soltanto un fattore per spronarci. Ma io alla fine faccio quello che mi viene chiesto, anzi cerco di fare quello che mi viene chiesto, vengo tutti i giorni all'allenamento per migliorare, per fare sempre il meglio possibile. Queste prime tre partite è stata una grande vittoria a Ferrara, ci sono state queste due sconfitte con Brescia e Mantua, che è sempre di pochi punti, quindi ci possono dare una grande spinta. Per fatto personale comunque non è che sinceramente ci pensi più di tanto, ma cerco di fare quello che mi viene chiesto. Ma ora stiamo cominciando a guardare un po' Verona, un po' le loro caratteristiche, che è una squadra di assoluta prima fascia, sono attrezzati in tutti i ruoli. Mi aspetto una partita fisica, molto fisica, che comunque hanno dei giocatori che ci possono infastidire, sia fisicamente, sto parlando sia dei lunghi, ma anche delle stesse esterni, come Cortese, come Spanghero, comunque sono giocatori molto di primo livello e io personalmente le affronto un come tutte le partite, quindi al massimo per cercare di portare altri due punti a casa.